Dai, dai! Andrea! Adesso c'è un calcio di rigore a nostro favore, sul dischetto. Sul dischetto che c'è? Rete, rete, rete! Rete, rete! Chi l'ha fatto il gol? Andrea! Il fallo è stato fatto su Gabriele Gian Cristoforo, fallo dentro l'area di rigore, quindi rigore decretato dal direttore di gara e rigore battuto da Andrea Nasuti che spiazza letteralmente il portiere locale. Quindi il risultato parziale di questo primo tempo è 3 a 1. Sì, 3 a 1. Davanti agli ombra! Gabriele, Gabriele! 5.000, 5.000, così!